Ciao, sono Marco Cusimano, questo è CrossFit Strongway, oggi è l'1 aprile 2016, la mia categoria è RX, questo è il primo mod dei Sinsinitro Down, 7 minuti AMRAP, 10 thruster con 50 kg, 10 box jump over e cross da 75 cm. Andiamo a vedere gli strumenti, gli standard, gli strumenti, primo pilacere, 20 kg, 2 dischi, 2 bumper da 15 kg, 1, 2, che andiamo a bloccare con i collari. Ok, abbiamo il box, 75 cm qua, vediamo, 30 pollici, ok, time, ora metteremo, mettilo a zero, quantesemente? Perfetto. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! andiamo No, 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 no 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 23 23 24 salva! 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 2 secondi e riparti! ordino! ne fai 1 per fuori! ordino! di nuovo! vai! mando di cucinità! 3 vai, vai! 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 10 10 11 No, 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 no. Cinque seco offi. Vai, che parte? Vai, vai, vai. Vai. Uno, prima della gatta, non pressa. Due. Salta, salta. Vai. Vai, non c'è la stessa gatta. Guarda. 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 Tre secondi e riparti. Vai. Lascia. Guarda. 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 dai, non ti avendo, non ti avendo uno, avendo, mora, mora e giri, vai, salta due, mora, mora vai, tre vai, salta quattro, quattro vai, vai, vai cinque grazie a lei, come un'inizio di là vai, vai sei, vai ok, maggiore dai ok, ok ok, ok oh vai 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 dai dai Vai! Vai! 3! 2! 1! Vai! Ammonare più da cento! Ammonare qui! 1! Vai! Giuntino a 2! Vai! Giuntino a 2! Vai! Giuntino a 2! Hai! Ehm! Stringi! Solta! Dai! Non lo bollare! Non lo bollare! 4! Dai! Non lo bollare! Non lo bollare! Non lo bollare! 3! Un'altra, 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 male, male, veloce, e sei!